E una buona foto non ha bisogno della didascalia, diceva Henri Cartier-Bresson. Una presentazione adatta al nostro ospite di oggi, Alfredo Bini, fotografo di lungo corso, tra l'altro autore della copertina del primo numero di Capo Sud, la nuova rivista sul sud del mondo che abbiamo battezzato proprio a Rai News 24 qualche mese fa. Benvenuto Alfredo Bini, grazie di essere con noi. Diceva un fotografo di lungo corso, vedremo delle bellissime fotografie di reportage che hai fatto in diversi paesi africani, anche alcuni che vanno molto a fondo nei problemi, nelle grandi questioni di questo continente. Innanzitutto però, partiamo proprio dall'inizio, come hai iniziato questa carriera? Hai naturalmente studiato da fotografo, ma poi il salto? Beh, in realtà ho fatto dei workshop, la mia formazione è un po' diversa, una formazione più di carattere aziendale. Poi ho fatto dei workshop di fotografia con diversi autori statunitensi che lavoravano per il National Geographic, per Time, Newsweek e poi da lì ho iniziato a progettare dei lavori che avessero un taglio sociale. Ecco, noi dicevamo, facciamo vedere alcune di queste foto, poi ci torneremo perché ne parliamo più nello specifico. Tu sei stato però, soprattutto forse il viaggio che ti ha un po' appassionato all'Africa è stato con due ONG. Sì, è un progetto che ho portato avanti in Burkina Faso con un ONG di Modena, bambini nel deserto, e lì sono entrato per la prima volta in contatto con gli aspetti sociali che generavano poi le cause migratorie delle persone che vivevano in questi posti del Burkina Faso. Perché il Burkina è un paese che è diviso sostanzialmente in due parti, una parte diciamo Florida, una parte più secca, la parte Florida però è data quasi tutta in concezione a aziende che piantano zucchero, canna da zucchero e cotone, e questo crea delle dinamiche economiche e sociali che fanno sì che le persone non abbiano sufficiente denaro per sostenersi e per comprare da mangiare in caso di carenze alimentari. E quindi genera tutta una serie di dinamiche migratorie che poi li spingono a prendere un viaggio che si convoglia in questo caso appunto in Niger, da dove parte la rotta per la Libia e poi forse per l'Italia. Ecco, sui migranti a cui hai indicato anche un bellissimo riportato, torneremo dopo, perché in realtà diciamo forse l'opera di partenza è stato il contatto con la questione dell'acqua, con questo acqua e terra nel Sahel. Sì, esattamente, e appunto giù in Burkina Faso ci sono delle zone agricole dove appunto le compagnie, piantando cautone, canna da zucchero, tendono a non creare quegli elementi di sostentamento per la popolazione che viene sottopagata per quelli che ci lavorano e quindi essendo sottopagati non riescono ad acquistare il cibo sufficiente in caso di problemi alimentari. E' stato lì la prima volta in cui appunto una persona mi parlava che conosceva bene la realtà della Capitanata a Foggia dove arrivano fatti le raccolte di pomodori, aveva degli amici che lavoravano lì, riceveva continuamente degli sms per appunto spingerlo a venire in Italia a lavorare in questo luogo dell'Italia. Tra l'altro è la persona che sta andando adesso in sovimpressione. La cosa interessante è che poi questa VNG ha creato in questo luogo un barrage che ha permesso il prolungamento del periodo di coltivazione di quello che loro fanno normalmente e per la prima volta nella storia di questi villaggi da due anni nessuno degli uomini che migrava normalmente in Ghana per andare a lavorare nelle piantagioni ha lasciato il suo villaggio e è rimasto lì a lavorare i suoi orti, i suoi campi grazie a questo barrage. Mantenendo la famiglia e quindi impedendogli di dover lasciare anche il suo paese perché poi queste migrazioni sono sofferte, non sono gratuite dal punto di vista dei sentimenti, delle fatiche, dei rischi e di tutto. Ecco, vedevamo queste bellissime foto ma sono tante le foto che ci hai portato e vorrei proprio venire al tema forse principale, i migranti perché tu hai fatto un grande reportage i migranti sulla rotta del Sahara abbiamo anche la copertina di questo reportage fotografico attraversi un po' i paesi che sono le tappe principali di questo lungo viaggio Sì, questo viaggio si svolge principalmente in Niger praticamente è attraversato tutto dal sud del Niger fino verso il centro ad arrivare ad Agadez ad Agadez si convoglia tutti i flussi migratori che provengono dall'Africa occidentale quindi dal Ghana, dalla costa d'Avore, dalla Nigeria, dal Camerun anche e poi da lì in attesa della partenza dei vari camion Ecco, vediamo questi camion stracarichi quindi possiamo anche immaginare con il caldo del deserto come vivano questi viaggi poi In quel periodo lì c'era, essendoci la guerra per l'uranio nel nord la partenza del convoglio avveniva una volta ogni tre settimane e in questo caso erano all'incirca 40-45 camion la metà di passeggeri e la metà di merci che si muovevano tutti insieme per un periodo in cui venivano scortati dai militari e poi alla fine dell'air venivano lasciati liberi e nel deserto proseguivano tutti da soli però a volte si incontravano nel deserto quelli che venivano dal nord e quelli che stavano partendo da sud e in questo percorso si attraversano varie tappe c'è i pozzi, questo è il polso Speranza 400 che sta a 400 km da Agadez dove è la prima tappa del convoglio e poi su, su, su fino a Dirku che è l'ultima oasi del Niger prima di partire questa volta su delle jeep e non più sui camion verso la Libia abbiamo visto anche i volti intensi di queste persone che abbandonano le loro terre e affrontano un viaggio che costa la vita a migliaia di migranti sì, le statistiche parlano che siano più o meno il 12% le persone che muoiono lungo il percorso e molti poi vengono anche bloccati e detenuti nei campi in Libia sì, si suppone che siano sicuramente di più del 12% l'aspetto particolare che mi premeva fotografare erano le storie degli stranded cioè delle persone che si erano ritrovate per un motivo o per un altro senza soldi, senza modo di poter continuare come per esempio questa persona che c'è adesso che è Cameron, un ragazzo della Guinea con Agri o questo ragazzo del Mali che sono costrette a trascorrere una parte del loro periodo di viaggio lavorando gratis per una persona locale che poi alla fine dopo 3, 4, 5 mesi, un anno dipende dalle condizioni le pagherà e allora potranno decidere se continuare il viaggio oppure tornare indietro ecco, lungo questo viaggio tu se non mi sbaglio sei stato anche arrestato sì, ad Agadez perché appunto essendoci la guerra per l'uranio il governo nigerino non voleva che ci fossero ficcanaso nella questione diciamo dell'uranio e della nuova miniera di Moroen soprattutto e quindi era evitato ai fotografi e giornalisti io ero riuscito a farmi passare come una specie di cooperante che faceva una ricerca sulle dinamiche migratorie e però quando mi hanno visto la prima volta lì alla partenza del convoglio con la macchina fotografica mi hanno subito preso e mi hanno portato alla gendarmeria comunque una macchina fotografica è sempre scomoda mostrare che cosa accade veramente non piace sotto nessun sole e poi anche precedentemente a Niamei mi ero stavo fotografando un cantiere dove i cinesi si diceva facevano lavorare delle persone che erano carcerati i cinesi alla costruzione di un ponte e anche lì quando sono venuto via sono stato fermato dall'esercito che ha voluto che cancellassi le fotografie poi in realtà non le ho cancellate però insomma ho fatto finta per fortuna quindi li possiamo vedere ecco un'ultima cosa perché i tuoi reportage che peraltro si possono vedere anche sul sito che porta il tuo nome Alfredo Bini non sono però solo sul sito sono stati anche pubblicati da molti settimani questo qui è stato pubblicato in Italia per la prima volta dal Corriere della Sera poi dal Manifesto, da Avvenire è uscito sulla BBC, sul Paese, sul New York Times ha avuto insomma un buon ritorno da un punto di vista editoriale ecco un buon ritorno spero anche sui contenuti perché tu dici sempre che non ti fermi a raccontare una realtà che sia fine a se stesso una foto, una bella foto però che deve anche raccontare che cosa c'è dietro beh sicuramente è un aspetto credo che sia determinante per chi fa questo lavoro tu fai una foto di... tu puoi essere testimone non solo artista se vogliamo cioè io quello che mi piacerebbe fare sempre a volte non riesco per motivi economici è fare dei lavori che denunciano magari situazioni di disagio sociale o situazioni dove ci sono magari delle cose che meriterebbero di essere conosciute divulgate e in cui ci fosse una discussione in questo senso e proprio un'ultima cosa in chiusura, una battuta i programmi per il futuro beh i programmi per il futuro mi piacerebbe ampliare questo reportaggio in Nigeria da dove proviene il 50% delle persone che facevano questa rotta veniva dalla Nigeria per problemi legati alla politica della Nigeria per problemi legati a situazioni sociali create anche lì da aziende multinazionali perché la zona del delta del Niger o altre zone hanno delle forti influenze le multinazionali nelle politiche anche sociali nelle politiche di quel paese infatti il 50% proveniva da lì mi piacerebbe ampliarlo in questo paese e quindi grazie ad Alfredo Bini in bocca al lupo per i futuri viaggi che poi torneremo a seguire e chiudiamo con un brevissimo ricordo della giornata internazionale dedicata alla memoria delle stragi avvenuta in Rwanda nel 1994 vi lascio a un brevissimo passaggio del film Rwanda Costa's List la lista del console dedicato allo Schindler italiano Pier Antonio Costa console in quegli anni nel paese che mettendosi in gioco in prima persona utilizzando i suoi soldi e le sue conoscenze ha salvato la vita a circa 2000 persone occidentali ruandesi, soprattutto molti bambini il documentario è di Alessandro Rocca sentiamo la testimonianza di Costa che parla di coscienza personale arrivederci non l'ho fatto cercando il martirio non l'ho fatto cercando l'eroismo ho fatto prima di tutto il mio dovere ho fatto il mio dovere come console prima e dopo ho fatto il mio dovere verso me stesso verso la mia coscienza eccoci con le notizie iniziamo con una notizia che è arrivata da poco in redazione un elenco di 10.000 italiani grazie a tutti